Proseguono i controlli da parte dei militari su tutto il territorio per le autocertificazioni riguardanti gli spostamenti. Dei controlli finora effettuati sono stati predisposti da parte dei carabinieri tre denunce a piede libero per violazione dell'articolo 650 del codice penale del decreto emanato dal governo. Un ragazzo è stato fermato perché era diretto a Pesaro per vedere una moto, il secondo un pugliese ha dichiarato di essersi fermato a Fano per salutare degli amici e il terzo soggetto fermato non ha rilasciato sul documento di autocertificazione delle giustificazioni idonee. Tutti i soggetti sono stati fermati all'interno delle proprie vetture dalle pattuglie a Fano e sono state applicate le pene sull'inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Le misure valide fino al 3 aprile per contenere l'epidemia di Covid-19 prevedono attività aperte per ambulatori, medici, analisi, farmacie e parafarmacie, supermercati, attività di vendita di genere alimentari, uffici pubblici e assistenza domiciliare, consegni a pasti a domicilio e mercati e centri commerciali. Attività sospese invece per tutte le scuole di ogni ordine e grado così come musei e biblioteche, cinema, teatri e manifestazioni, eventi e competizioni sportive, centri benessere, palestre, piscine, discoteche, pub, sale giochi e tutte le cerimonie civili e religiose. Attività limitate per i negozi all'interno di centri commerciali, chiusi il weekend, mercati rionali, chiusi il sabato e la domenica, bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18 con veto del servizio al banco, mentre gli allenamenti sportivi sono consentiti solo a porte chiuse per atleti tesserati professionisti. Il cittadino deve evitare di uscire di casa, mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro, evitare i contatti anche in casa se si ha infezione respiratoria e infine uscire di casa solo se veramente necessario. Inoltre si può fare la spesa o recarsi in farmacia solo vicino a casa, si può andare a trovare i genitori anziani e parenti da accudire usando le precauzioni, si può andare a lavorare se non puoi farlo da casa portando l'autocertificazione, si può andare a fare una passeggiata ma da solo, vietato invece andare a cena ad amici o andarli a trovare.